Si è svolta a Napoli, nella Sala Caduti di Nassiria, presso il Consiglio regionale della Campania, l'audizione convocata dalla Terza Commissione Speciale Regionale sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Alla conferenza che ha fatto il punto sulla situazione della confisca e del riutilizzo di proprietà immobiliari e mobiliari appartenuti alla criminalità, hanno partecipato il prefetto Mario Morcone, direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, l'onorevole Antonio Amato, presidente della Terza Commissione Regionale per i beni confiscati, gli assessori regionali Armando Russo e Pasquale Sommese, l'assessore alla legalità del Comune di Napoli Luigi Scotti, il responsabile nazionale dei beni confiscati dell'Associazione Libera Davide Pati, il responsabile dell'osservatorio provinciale di Caserta sui beni confiscati Mauro Baldascino, il presidente di Polis Paolo Siani e di responsabili dei consorsi Sole ed Agro Rinasce. L'importante incontro non è solo servito a fare il punto sulla situazione confisca e riutilizzo, ma anche ad individuare la possibilità di un ufficio territoriale dell'Agenzia Nazionale in regione Campania, come punto nodale in modo tale da avere la massima sinergia per il grande lavoro da svolgere. Direi che oggi è una giornata importante, tra poco sta per arrivare il prefetto Morconi, che è il direttore generale dell'Agenzia dei beni confiscati, l'Agenzia Nazionale. Qui noi in Campania già abbiamo delle buone esperienze nel Casertano, ma anche nella città di Napoli, ma soprattutto nel Casertano. Si tratta adesso di consolidare ed estendere le esperienze, far sì che questi beni diventino veramente uno strumento per la lotta alla camorra, cioè sottare la camorra delle loro ricchezze che sono state fatte sulla pelle di tanti cittadini, di tanta gente onesta. La situazione campana è di un gran numero di immobili e non solo di immobili, anche di aziende. Tra l'altro è arrivato ormai il processo Spartacus a conclusione, quindi ci sono una serie di beni da destinare. C'è da costruire un raccordo forte tra le istituzioni, regionale, provinciale, comunale e dell'Agenzia Nazionale per vogliergli restituire al territorio una ricchezza che gli era stata sottratta illegalmente. Prefetto, lei ha promesso un'agenzia territoriale che debba lavorare in sinergia con quelle che sono le azioni sul territorio? No, io non ho promesso nulla. Io ho bisogno sicuramente di una filiale sul Napoli e quindi di una presenza in Campania come in Sicilia certamente. Il Comune di Napoli ha il più alto numero di beni confiscati all'ambito della Campania e tutto ha a che fare con la legalità perché significa sottrarre questi beni alla criminalità organizzata e restituirli alle istituzioni come sedi alle istituzioni oppure all'associazione a fondazioni che abbiano finalità sociali e proprio un contrappeso preciso alla eversione criminale. Ecco, in questi termini si realizza a doppia misura la legalità. Si tolgono beni alla criminalità organizzata e lì questi beni vengono restituiti ad una funzione sociale a una funzione dunque apprezzabile sotto l'aspetto della legalità. Grazie a tutti.